Siamo terroni in merda Andiamo da quella parte Andiamo da quella parte Andiamo da quella parte Sì ma te lo restituisco Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Ma che c'è sul telefono Sono amico sul telefono Vate un attimo Che ho un collega da faccio La signorina che sta facendo un attimo ho replicato semplicemente quello che lui ha scritto adesso nulla di male non lo insultate di nulla qui lo volete bloccare almeno